Regione Toscana, il Consiglio regionale Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. È da poco terminata la seduta e noi andiamo subito a vedere i temi del sommario di questa puntata. Dibattito in aula nell'ultima seduta del Consiglio regionale sui fatti avvenuti a Firenze e Pisa con gli sconti tra polizia e manifestanti. In particolare c'è stato un aspro dibattito in Consiglio regionale con posizioni leggermente diverse di maggioranza e opposizione. Una sicuramente condanna dell'accaduto ma come abbiamo detto delle piccole differenze che hanno portato i gruppi a uno scontro in aula e nelle nostre interviste possiamo ascoltare qual è la posizione proprio di maggioranza e opposizione su questo tema di questa settimana. Credo che era doveroso prendere posizione da parte del Consiglio regionale dopo i fatti inquietanti che sono accaduti a Pisa dove abbiamo assistito veramente un po' inorriditi, preoccupati e anche amareggiati nel vedere che dei ragazzi che manifestavano pacificamente, molti di loro minorenni, sono stati addirittura manganellati. E' chiaro che noi vogliamo capire di chi è la responsabilità, se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere con rigore senza eccessi per tutelare la salute dei cittadini, la democrazia, la libertà di manifestare. Purtroppo quello che abbiamo visto invece in piazza a Pisa e anche a Firenze non apparteneva a questa categoria ma ci sono stati degli eccessi che sono stati oggetto di critica in primis del Presidente della Repubblica le cui parole noi sottoscriviamo. I manganelli sono il fallimento delle istituzioni, dei rettori, della comunità cattolica, dello stesso sindaco di Pisa che ha sottolineato come quella città era ed è abituata a vedere altre cose. Quindi in questo senso anche noi abbiamo voluto con questo atto chiedere chiarimenti al Ministro in primis che domani riferirà alle Camere e vogliamo veramente sperare che questo atto sia un atto isolato che non si ripete laddove le manifestazioni sono pacifiche e laddove le manifestazioni sono una libera espressione del pensiero soprattutto in questo caso da parte di giovanissimi. Ringrazio il Consiglio regionale della Toscana di aver condiviso la mia mozione chi ha sottoscritto l'atto, chi lo ha votato è un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze, la Toscana non è questo e quindi il diritto di manifestare, la libertà si esercita, non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva l'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto è successo, prende distanza e chiede chiarezza. La Toscana è un'altra cosa, la Toscana è una terra di tolleranza, di libertà, di diritti e come tali ragazzi della nostra regione hanno diritto e dovere di manifestare e di esprimere le proprie idee bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione, dispiace perché magari si poteva creare un atto unitario invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile difendere quanto è successo non compete diciamo alle forze politiche da parte nostra va anche la solidarietà ovviamente alle forze dell'ordine in generale per il lavoro che costantemente e quotidianamente svolgono ma questo che è successo in Toscana il 23 febbraio è un errore grave e come tale andava denunciato e come tale andava condannato e preso la distanza da parte della Toscana. Il dibattito ha visto la discussione su due mozioni e l'Aula ha decretato il sì al documento presentato dal Partito Democratico Italia Viva e Movimento 5 Stelle. In Consiglio è stata invece respinta una seconda mozione a firma Fratelli d'Italia e Lega che chiedeva di riaffermare come fondamento della democrazia prima di tutto il rispetto delle regole per tutti gli attori della vita pubblica. È stata evidente purtroppo la rottura di quel patto sociale di fiducia che c'era tra le persone, i cittadini e le forze dell'ordine quindi il chiedere chiarezza e più velocemente possibile sarà l'unica cosa che potrà aiutare a ricucire quel dialogo e quel patto di fiducia appunto che in questo momento a Pisa ma anche a Firenze e in tutta la Toscana direi a livello nazionale sta rischiando di venire di mancare. L'unica cosa evidente è che ci sono stati dei ragazzi, dei minorenni che sono stati picchiati e le parole di Mattarella sono la sintesi migliore di quello che dovrebbe essere l'azione di quello che impropriamente è stato appellato come Stato di diritto da degli europarlamentari e dei parlamentari che invece si sono lanciati in giudizio e a soluzioni semplici. Io ritengo invece che proprio per garantire massimamente le forze dell'ordine a cui va tutta la nostra stima il nostro rispetto per il lavoro che fanno ma per tutelare anche il diritto a manifestare la serenità dei nostri ragazzi e delle persone si debba immediatamente fare chiarezza per far sì, per assicurarci che questo sia un caso isolato che chi ha delle responsabilità, chiunque esso sia all'interno della catena di comando o nel teatro delle operazioni paghi per quello che ha fatto perché non è ammissibile che possa far parte della società civile o perlomeno continuare a espletare quelle che sono le loro funzioni questa chiarezza servirà a ricucire appunto un tessuto che si sta sfaldando. Ho apprezzato le parole del sindaco di Pisa ho apprezzato tutte le parole che trasversalmente sono andate verso la ricucitura come quelle dei rettori delle tre università di Pisa e come quelle dell'Arcivescovo e di tutti coloro che invece hanno sostenuto entrambi i diritti soprattutto quello alla libertà di manifestare perché diversamente da come ha detto un ero parlamentare pisana non c'è necessità di autorizzazione per una manifestazione perché la manifestazione secondo l'articolo 17 della nostra Costituzione è libera e soltanto nell'epoca del fascismo c'era bisogno di un'autorizzazione questo teniamolo presente perché rischiano di cadere le basi della nostra Costituzione e del nostro vivere civile. Secondo l'opposizione le condizioni per trovare una sintesi e quindi proporre un atto comune sui gravi fatti accaduti a Pisa e Firenze ci sarebbe stata le proposte sono state due in effetti respinte tutte e due dal PD quindi continua questa volontà di strumentalizzare questi fatti da parte del Partito Democratico e della maggioranza in Consiglio regionale così come purtroppo vediamo tante notizie non vere in dichiarazioni fatte dai nostri colleghi della maggioranza le proposte erano due la prima di trovare un atto comune quindi una sintesi nei prossimi giorni aspettando domani le dichiarazioni del Ministro Piantedosi che farà in aula alla Camera per capire anche quali fatti nuovi possono emergere da queste dichiarazioni e c'è stata respinta la seconda alla fine è stata quella di fare un atto molto semplice dove insieme si metteva giù un atto che riprendeva la nota del Quirinale con le parole del Presidente Mattarella e questo avrebbe dato anche un senso importante in questa regione dove sono avvenuti questi fatti purtroppo il PD ha respinto queste proposte vuole andare il voto forte di una maggioranza per mostrare muscoli ma soprattutto per continuare a strumentalizzare questi fatti e come si è sentito in aula a dare già delle sentenze e delle condanne quando in realtà ci sono delle indagini in corso e quindi credo che da un lato la Procura da un lato il Ministero e quindi internamente le Forze dell'Ordine debbano procedere in maniera seria noi abbiamo fiducia nelle istituzioni il PD continua a strumentalizzare Sono tra coloro che auspicava che il Consiglio regionale uscisse con un atto unitario con un'unica mozione perché quello che c'è da dire su quello che è successo a Pisa non è difficile è stato molto bravo il Sindaco Conti ma non è difficilissimo da dire a Pisa va detto dopo i fatti di Pisa va detto che in questo paese ma in tutti i paesi civili chiunque ha diritto di manifestare il proprio pensiero finché questo non travalica ovviamente la legge e il rispetto del prossimo chi parla in vita sua ha organizzato decine di manifestazioni ha partecipato a decine di manifestazioni e mi fa sorridere quando sento dire che in questo paese non esiste il dissenso questo paese il dissenso esiste, è garantito e fa sorridere che chi dice che in questo paese non esiste il dissenso sono gli stessi che non hanno sprecato mezza parola per condannare invece chi manifesta prendendo un fantoccio con le sembianze del Presidente del Consiglio impiccandolo a testa all'ingiù e dandogli fuoco quello non è manifestare in maniera corretta quindi io mi auspicavo che oggi il Consiglio regionale dicesse questo che tutti hanno diritto di manifestare che tutti hanno il dovere di rispettare le regole e le leggi anche chi manifesta che se un poliziotto reagisce ad una provocazione in maniera sconsiderata e sproporzionata deve essere sottoposto a provvedimenti disciplinari cosa che sicuramente la polizia farà che un manifestante che sputa in faccia un poliziotto non è un manifestante pacifico è lì per manifestare la propria idea Nell'ultima finanziaria dello Stato è stato previsto un taglio per i comuni inferiori a mille abitanti su un contributo straordinario che il Governo stanziava annualmente per questi piccoli comuni del 25% si tratta di un fondo che era di 85 mila euro per ogni comune che è stato ridotto a 50 mila euro in seduta del Consiglio regionale la Commissione Are Interne ha portato una proposta per sensibilizzare Giunta e Governo per ripristinare questo fondo che attualmente è stato ridotto del 25% e quindi si tratta di 35 mila euro che vanno a perdere questi comuni e in provincia di Arezzo i comuni che sono attenzionati da questa proposta sono i comuni di Badia Tedalda Chitignano, Montemignaio, Ortignano-Raggiono e Talla e il Consiglio ascoltiamo nella proposta di risoluzione approvata che cosa chiede Capraia, Monteverdi Marittimo, Careggine, Sassetta sono 20 i comuni della regione toscana sotto i mille abitanti che il primo gennaio del 2024 si sono trovati una brutta sorpresa da parte del Governo Meloni che ha deciso nella finanziaria di tagliare un fondo che era stato istituito nel 2019 per sostenere gli investimenti sulle strade le scuole, la manutenzione del patrimonio comunale gli interventi sull'efficientamento energetico di questi piccoli comuni che tante volte hanno territori molto estesi e che hanno veramente difficoltà nel realizzare interventi anche minimali era un fondo che istituito nel 2019 era sempre aumentato negli ultimi anni e che dava a questi comuni circa 85 mila euro l'anno fondi che all'apparenza magari per un comune come Firenze sono poca cosa per un comune di piccolissima dimensione invece sono fondamentali era un plano pluriannale quindi i comuni avevano fatto un affidamento quindi anche una programmazione taglio del 25% da 85 mila euro a 50 mila euro è un taglio non solo nel 2024 ma anche nei prossimi due anni una scelta che per noi è del tutto incomprensibile e sbagliata perché una volta che lo Stato centrale aveva deciso di intervenire a favore di questi enti sinceramente tagliarlo indipendentemente dalle questioni politiche a noi ci pare una scelta totalmente miope la Toscana con questo atto chiede al governo di ritornare sui suoi passi se ci sono degli sprechi in questo paese non sono certo i lavori e gli interventi dei comuni più piccoli che anzi sono presidi democratici fondamentali e più non lo Stato non può cambiare le carte in regola da un giorno all'altro a comuni di così piccola dimensione che magari hanno assunto degli impegni e che da un giorno all'altro si vedono scomparire soldi e magari non sanno dove trovarli nel loro bilancio così non si fa è un grave errore noi abbiamo chiesto alla Giunta un impegno forte verso il governo e lo chiediamo a tutti i parlamentari di ogni orientamento politico chi è a favore dei territori più marginali siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale qua da Firenze la seduta del Consiglio è da poco terminata e noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni Regione Toscana il Consiglio regionale